Oggi con il social la critica è molto più facile, molto più immediata. Tu come te la vivi? Io la vivo sicuramente non rispondendo mai a nessuno, mai alle provocazioni. Cerco di, per quanto posso, se mi metto a leggere i commenti, è una cosa che ho rilasciato io. È solamente per vedere se il feedback è positivo o negativo, le scorro velocemente, non mi metto a leggere. Nello specifico, anche perché spesso, gente che appunto tende a voler tiro fino a papà giornata, capito, te lo dico. Ma poi tante volte, veramente, si sa, ormai che il tuo hater più grande è il tuo fan più grande, davvero di involontariamente, quindi se capisci questo meccanismo e smetti di cascare nella trappola del hater che ti provoca, vai tranquillo. Se sei uno che sa, vive male, conosco dei colleghi miei che se la vivono proprio male, che non escono poco da casa, comunque fanno musica, lavorano, non c'hanno i soldi loro, avranno il loro lavoro, però se uno fa la spesa online, cioè comunque sono ancora di quelli che le vedi per strada e che agente ti dicono che stai affatto, che stai affatto, che stai affatto, che stai affatto, che stai affatto.